Ciao a tutti, ragazzi oggi voglio farvi vedere quello che è successo ieri nella data del 24 novembre dal mio programma Ambo in Quartina, sistema Lotto Ambo in Quartina non è andato l'Ambo però voglio farvi vedere un sacco di ambate, ci sono andato molto molto vicino un sacco di ruote. Allora partiamo subito, qui ho dimezzato un attimo la pagina per farvi vedere contemporaneamente, allora vediamo l'estrazione 24 e quella precedente, le 22 e 11. Allora prendiamo in considerazione l'estrazione di Bari 22 per elaborarla, allora facciamo subito allora 68, 19, 5, 59, allora vediamo che ha dato 24, 17, 47, 74, vedete il 47 e il 25 noi avevamo il 24, quindi Ambo sfiorato su Ambo in Quartina, comunque ha dato il 47 primo colpo. Adesso vi faccio vedere gli altri piano piano, partiamo con Cagliari, 62, 63, 82, 20, 70, 62, 63, 63, allora 62, 63, 82, 20, 70, 20, 70, vediamo cosa ha dato, allora 55, 27, 1 e 54, qui non ha dato nulla, qui su Firenze, 73, 45, 8, vediamo un po', 73, 45, 8 e 90 e 16, 90 e 16, 90 e 16, 52, 53, primo colpo, non ha dato l'Ambo, perché non ha dato l'Ambo stavolta, da nessuna parte, però ho dato un sacco di ambate, come vi faccio vedere il primo colpo, ci siamo? Dal mio sistema l'otto Ambo in Quartina che potete scaricarvi, costa poco, spero che non sia del bracino corto, perché tanti purtroppo lo sono, non capisco, ma qui è l'altro di nuovo, adesso vi faccio vedere ancora gli altri, allora vediamo un po' per Genova, 55, 57, 71, 55, 57, 71, 80 e 87, vediamo un po' cosa ha dato, se ha dato, 87, non vi conto palle, signori ci sono le date, quindi potete vederli, allora Genova, 38, 77, 51, infatti è 70, ha dato 51, ci siamo? 51 preso il primo colpo? fa schifo? Eh, lo so che non è un Alambo, grazie, anche io vorrei la cinquina secca, cioè, qui mi pretendono veramente, allora per Genova di nuovo un altro numero, adesso vediamo un po' Milano, 83, 77, 83, 77, 22, 74, 46, 22, 74 e 46, vediamo un po' cosa ha dato, allora Milano, Milano, eccolo qua, 9, 30, 58, 82, 82, preso, primo colpo, di nuovo ragazzi, di nuovo, potevano anche dare gli Ambi, l'abbiamo visto, ma per adesso non ha dato nessun Ambo, quel ieri, però ha dato un sacco di Ambate, come vi sto facendo vedere, allora, 9, 30, 58, 82, si era 82, basta, adesso non ha dato, altro numero, però ha preso il primo colpo, adesso vediamo un attimo Napoli, non in tutta ha dato, allora, 12, 83, 85, 12, 83, 85, allora, 12, 83, 85, Napoli, ben detto, 29, 45, 29 e 45, invio, questo è il mio programma, ragazzi, potete acquistarlo, acquistatelo, fatevi un regalo, guarda che è valido, lo so che non dà sempre, ma l'avete visto, poi l'avete visto delle volte precedenti, è chiaro che non in tutte le ruote dà e non sempre dà l'Ambo, grazie, dovete scegliere in una ruota o più ruote senza stare a spendere troppo e valutare, è chiaro, allora, vediamo un attimo, abbiamo detto che era Napoli, sì, Napoli, vediamo cosa ha dato, si ha dato, 78, 78, 74, 45 e 4, qui non ha dato una cippa, no, non ha dato niente, 78, 74, 45 e 4, no, non ha dato, è chiaro, non è che sono un mago, allora, mago forest, allora, Panermo, 88, 67, 39, 88, 67, 39, ho sbagliato, ho fatto invio, 88, 63, 83, 33, 83, invio, vediamo su Palermo cosa ha dato, allora, 16, 26, 89, 80, 16, 26, non ha dato niente, 89, 80, no, non ha dato che, non ha dato niente, 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 12, 82, 12, 82, no, 82, no, 83, 82, invio, vediamo un attimo cosa ha dato, allora, viene detto Roma, Roma, allora, 57, 4, 76 e 20, 57, preso, primo colpo, di nuovo, ci siamo? Poi mi dicono, ma qui, ma su, ma giù, ma che cacchio vuoi, cioè, quella cinquina l'indomani, grazie, anche io voglio, cioè, ma giù li pretende, io vi dico, cautela il gioco, cautela, non c'è niente di sicuro, di facile, è chiaro che vi scrivo fantastico, ma fantastico perché lo ha veramente, cioè, non è che si può pretendere, chissà che cosa, parecchie volte ho dato un sacco di lambo, l'ho fatto vedere le volte precedenti, e chissà quanto ne darà le prossime, allora, qui abbiamo preso il 57, viene detto Roma, di nuovo un altro numero, adesso proviamo in Torino, 9, 47, 30, 9, 47, 30, 12, 69, 12, 69, 12, 69, allora, 77, 81, 87, preso, e 82, preso solo l'87, lo so, su 4 è poco, ma, grazie, ma avete visto, però, eh, a primo colpo, eh, ciccio, non è che devi giocare di 300 copi per questo, eh, eh, non è sempre domenica, eh, quindi preso un altro numero, Torino, vediamo un po' Venezia, se ha dato, 14, 53, 14, 53, c'è un modo per vedere due pagini che stiano fermi, sti stronzi, 24, 31, 52, 24, 31, 52, allora, 24, 32, 52, ok, Venezia, invio, l'ho fatto, allora, 77, 83, 46, 24, 24, preso, di nuovo, eh, ciccio, non è poco, eh, poi, eh, ma, sai, ma qui, ma là, il programma, eh, ma, fai cura, allora, cioè, allora, giocati i tuoi numeri, e, c'è, mazzi tuoi, meno male che mi è capitato solo uno, tra tanti, che meno male hanno comprato il programma, e sono iscritti, mi fa piacere, sono contento, mi è capitato un coglione, che su 10 e l'8, ma io non ho vinto qua cioè ciccio non è che io non lo so l'avete visto, non vi sto contando palle questo è il mio programma, non è che vi conto palle ci sono le date ragazzi il 24 novembre ieri elabori quella del 22 per la precedente per quella dopo non è che vi conto palle allora qui abbiamo visto che c'era il numero del 24 preso su Venezia di nuovo allora c nazionale vediamo un po' se ha dato ma non so se ha dato 5, 23 com'era 64, 61, 28 no, 64 61 e 28 invio questo è il mio programma che potete acquistare, acquistatelo mamma mia, tutti i bracci corti allora vediamo un po' cosa ha dato se ha dato qui, non lo so, non vi garantisco 87 89 4 e 56 56 preso di nuovo credevo che non l'avesse dato invece ha dato un altro numero fate voi ragazzi io non vi voglio mettere ne fumo agli occhi perché tante volte non esce niente è vero non sono un mago né un lottologo né altro io figura non mi ricordo neanche le tabelline se volete saperlo non me ne frega niente cioè io sono un ricercatore sono un pittore poi non sono né un lottologo né un mago né un matematico cioè niente però sono un ricercatore faccio delle mie prove e continuo queste sono date dalle mie prove dalle mie statistiche avete visto niente io ve l'ho detto c'è il link sotto se volete acquistarlo poi ci sono tutti gli altri miei programmi valido teorema del rettangolo il percorso per 7 per 13 che è piaciuto un sacco il video ci sono più di 40.000 e passa di visitatori vi è piaciuto tanto perché è valido anche quello non è male questo anche fate voi fate voi non vi dico niente però mi fa piacere che vi siete iscritti in tanti sempre di più cliccate sul like se volete iscrivetevi fate voi spero che vi piaccia il video vi sia piaciuto anche se questa volta non c'erano degli ambi ma che cacchio vuoi ci sono un sacco di ambate al primo colpo non lo so quindi niente ragazzi ci sentiamo al prossimo video grazie per l'ascolto per la visione a presto al prossimo video ciao a tutti grazie ciao ciao